Il suo nome Il suo nome è venuto per terra, mi pare. Duecento. Duecentoventi. Cerchi di formulare meglio le sue affermazioni. La sua parola qui diventa un atto. E che ci è venuto a fare qua a Siena? Beh, è la città ideale. Anche Baternò non è male. Si sente una parola, poi un'altra. Veda di darsi una smassa. Che cosa hai visto prima di essere colpito? Concentrati. Michele. Signor Gressadonia. Michele. Fuori di non essere creduti, si rischia di impazzire. Allora, a questo punto non ci vuole più l'avvocato, ci vuole un psicologo, un psicato. Vabbè... Ma chi c'ha stasino a piedi palermo?